Esamina forziere e shield nei queen jet Cosa vuol dire questa missione? E' una missione ragazzi molto molto facile Voi vi dovete arrecare ragazzi in questi queen jet Che sono diciamo questi aerei che scendono con questi bot Sono segnati come degli aerei Ce n'è uno appunto qua Possiamo trovare un altro qua E un altro qua Ragazzi cosa bisogna fare? E' una cosa semplicissima Basta che voi entrate nel queen jet che è questo aereo E aprite sette di queste casse ragazzi E' una missione molto molto facile Infatti ragazzuoli poi eliminate vabbè i bot Che vi daranno appunto fastidio Aprite la cassa Ne aprite sette di casse E avete completato la missione Se questo video vi è stato utile Mi raccomando lasciate un bel pollice in su E iscrivetevi al canale Grazie mille ragatella Ci vediamo ad un prossimo video